Ciao ragazzi da Vittorio, uno sfogo, ma non come quelli di Seekwolfo dove bestiemi, impreghi, eccetera, no, uno sfogo civile ovviamente, però credo che per la Lazio per crescere bisogna fare un passo ulteriore. Basta, non si può accettare che se critichi la Lazio sei antilotito, se apprezzi o fai un complimento alla Lazio sei un prolotito. No, i giornalisti dovrebbero essere obiettivi, dovrebbero criticare quando c'è da criticare e fare un plauso quando c'è da fare un plauso e non ci dovrebbe essere nessun secondo fine. Per cui io, quando in questi video parlo di Lazio, non sono né antilotito né prolotito. La mia è una semplice critica obiettiva. Voi mi direte, è purtroppo, molti giornalisti che parlano di Lazio, su televisioni, siti, radio, eccetera, non sono così obiettivi. E vi devo dire che avete ragione, ci sono alcuni che sono prolotito per un motivo e altri che sono antilotito perché gli antipatico, l'otito gli ha tolto delle cose. Purtroppo è così, è vero. Ci sono dei giornalisti che criticano Stracoscia quando fa una papera per attaccare l'otito e tare e dire che tare compra solo amici suoi e c'è chi, quando la Lazio perde, su Twitter scrive che la Lazio ha perso per colpa dei gufi. Maledetti. Nel 2019 ancora crediamo a gufi. Vabbè. Però, per il bene della Lazio, l'ambiente Lazio dovrebbe fare uno step successivo. Basta. Se sei un giornalista non puoi avere la testa del partito antilotito o prolotito. Devi essere giornalista. Altrimenti ti schieri e dici noi siamo antilotito, prolotito. E quindi sapete ragazzi che quella critica non sarà obiettiva, non sarà giusta perché il loro fine è solo criticare l'otito per cui trovano tutti i modi per criticare l'otito e dall'altra parte si esalterà l'otito e l'unico obiettivo è quello di esaltare l'otito. Per cui il calciomercato della Lazio è fantastico, se le cose vanno male è colpa dei giocatori. Dall'altra parte se la Lazio vince è merito perché i giocatori danno il massimo, se la Lazio perde è calciomercato di rotitettare è fatto male. Invece no, qua no, qua si è assolutamente obiettivi. L'otito non mi paga, anzi se vuole sponsorizzare il canale a me fa solo piacere, ma io rimango obiettivo. Dico che il marketing della Lazio è fermo negli anni 80 non perché odio l'otito ma perché è un dato di fatto e dico che la Lazio ha quei fantastici 4 che potrebbero portare in Champions League non perché io sia un grande amico di l'otito, tutt'altro. Però è giusto così, è obiettivo. Ecco, tutti noi dovremmo fare così. Per cui anche i giornalisti che purtroppo invece sono faziosi dovrebbero smetterla per il bene della Lazio perché fare una critica è giusto e sacrosanto ed è un lavoro dei giornalisti. Ma fare una critica per colpire volutamente una persona è sbagliata. Faccio un esempio. Tanti anni fa qualcuno disse che Stracoscia giocava nella Lazio solo perché il padre era amico di Glitare. Poi quando Stracoscia ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri dell'Italia, d'Italia, la critica è sparita. Nessuno ha detto oh mea culpa, Stracoscia è forte, non è perché è amico di Ittare. Vi ricordate Zana? Beh, molti di questi giornalisti anti l'otito dissero che Zana giocava alla Lazio solo perché era un grande amico di Ittare. Zana non è stato un campione però ha dimostrato di avere dei valori, no? La grinta che aveva a Zana è cavolo, magari ce l'avessero tutti i calciatori. Però quei giornalisti che criticarono Zana dicendo che era amico di l'otito non fecero mai il passo indietro, no? Fecero finta di nulla e cercarono di attaccare l'otito per un'altra cosa. E questo fa male perché non si fa il vero lavoro dei giornalisti. O si critica in modo obiettivo o non si può criticare. Ma stessa cosa dall'altra parte, no? Quando il giornalista, non faccio il nome, dice che la Lazio perde per colpa dei gufi, è una cosa imbarazzante. Come secondo me imbarazzante la patente di Laziale che viene affibbiata ai tifosi, no? Gli antilotitiani sono lazialoni, gli altri sono lazialetti, eccetera, no? Uno di fa Lazio, punto. Poi può essere contento di l'otito, può non essere contento di l'otito, nessuno dà la patente di lazialità a nessuno perché nessuno è stato eletto da Dio a dire tu puoi decidere chi è della Lazio e chi no. No. Ognuno può tifare la squadra che vuole e ognuno può manifestare la propria lazialità come meglio crede. E poi un'altra cosa importante. Non è vero che non andando allo stadio si danneggia l'otito. Non andando allo stadio si danneggia la possibilità che arrivi un magnate e compri la Lazio. Perché io faccio l'esempio del Manchester City. Il Manchester City era una squadra che lottava per la Serie B. Ogni anno in Premier League faceva schifo. Però lo stadio era sempre pieno. Per questo sono arrivati gli arabi. Perché hanno capito che il Manchester City è una squadra da grande potenziale. Vi ricordate l'epoca di Cragniotti? Gli irriducibili riuscivano a criticare anche Sergio Cragniotti. Vi ricordate quando l'hanno abbordato in vacanza sul suo yacht per lamentarsi della campagna acquisti? Oh parliamo di Sergio Cragniotti che faceva delle cose pazzesche per la Lazio. Ecco. Questi sono alcuni tifosi pericolosi della Lazio. Quelli che anche nell'epoca di Sergio Cragniotti hanno il coraggio di criticare il presidente. Per questo poi la Lazio c'ha lottito e non c'ha il magnato arabo o il magnato russo. Per questo. Per cui basta. Qui si critica, si fa analisi della Lazio senza secondi fini. Qui solo si parla della Lazio in modo molto obiettivo. Poi posso sbagliare o avere ragione. Quello è un altro caso. Però sempre senza secondi fini. Ciao. Grazie. 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 Grazie.